ciao ragazzi ciao ragazzi e colt coltivo semplici coltivo coltivo e e poi c'è un po' di due di lati ecco qui e tutti che mi sono andato sotto a me allora oggi sarà un pochino non è che non è che non è pronto direi che se ne avremo tenere conto perchè tanto non è che direi tenere conto lavo 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 e poi la torno per l'italiano, per l'italiano, per l'italiano che però l'artice e il piscu per l'acqua e il piscu per l'acqua e il piscu per l'acqua super bene le guardate e il piscu per l'acqua e quindi provo più di questo che non abbiamo ancora non ci preparo le preparo l'apparca e ti prepariamo e ci preparo e ci prepariamo e ci prepariamo e io sono benvenuta per la qualità della cipria perchè non mi ricordo sinceramente quanto cipra ok questo ruo celebri di quino di refresare questo ruo celebri di quino di refresare per tutti e questo ruo celebri di quino di refresare che mi siano già e però è un attimo e ne vienes parli qui ci sono e non so che ci sono e quello che c'è bella e tocco e non so qui ci sono che mi ricordo e non so perché grazie ok, 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 ok di piccolo il nono di piccolo di piccolo di roba di 3 di prodotto a parte che questo è carino questo numero 01 il proprio piccolo che l'ho comprato il numero 0 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 12 13 14 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 17 17 18 19 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 20 20 21 22 21 22 22 22 23 24 24 25 25 22 22 22 22 23 24 25 23 per una cosa che si tratta di molto strano come si tratta di chiacchiere e molto molto di risa, molto colpo e non particolarmente sono l'unico rapidamente perché sono molto buono per caso particolarmente l'ultimo è molto bellissimo in questo modo, è molto una cosa bambina tutto il burro del caldo e tutta la lepra e qui in questo modo c'è anche il libro scrabbi infatti guardiamo la previttura delle progetti che non ho proprio scuolta la lepra l'ho preso anche la troncina sempre nella troncina con due alzioni di altro che comunque non è lì veramente non pronti però non è ben purificato infatti guardatevi pure la carta di solito anche tipo uno dei miei costumi in assoluto non è sicuramente un altro cosa oltre una carta è questo qui della coppia qui sono contenuti 5-4,8 grammi così, durante il gessuccheretto continui anche 3,5 grammi con un pochino sai che tipo tutto il prodotto con un altro prodotto per il pelle troppo comunque questo è appunto il lavorabile per la protezione per la protezione mi ci trovo veramente bene vorrei fare un progetto a fare il bimbo un progetto ne metto la protezione per il bimbo e poi progetti a fare l'esperienza che lo ha trasformato per quello che ti ha due peraltro anche i pochino e la protezione per il bimbo la protezione blub 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 quindi ci metto una lettera blub 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 è una differenza di male di un colpo di 40 per l'uomo ci metto un po' un po' un po' che si metto un po' un po' che si metto un po' a costumato questo polo rosa se lo compro io per l'uomo ho finito l'uomo che si provano con un po' un po' di blub 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 perché sta arrivando un po' il canto di scocchi con l'uomo 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 e il prodotto deve essere anche nelle labbra che si mette con l'uomo con l'uomo 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 si metto un po' che si metto un po' molto importante allora ora che si metto un po' un po' di blub proviamo insieme ha un profumo buonissimo buonissimo stupendo mi piace senti com'è una bella meravigliantissima ho preso anche perchè non ho appunto questo profumo tutto può essere utile se state appunto andiamo a mettere il visatore intorno alla costa e vi faccio il prossimo video e vi faccio il video vi faccio il video e 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 vi faccio il video ad voulo li faccio il video con la principale e vi faccio anche per mi new kurz turn up giudici ma tuta vehill me ma per niente è un problema molto più di prevera e noi abitamente qui di provare a preverare un prodotto così comunque volevo anche dirvi anche per capire di preverare e quindi mettiamo un prodotto così e quindi tutto quello che vi voglio fare è mettere questa cosa che vi volevo mostrare l'ultima cosa che vi voglio mostrare è questa crema compratura in occhio c'è un prodotto di rumo ecco è un prodotto bio e l'ho messo di crema anche l'acqua biologica è un pochino però diciamo così vedete quindi magari diventate lo farò più come prima notte però diventano invece la pelle molto molto fecche e comunque adesso ho visto che pronderò quella di colorate per la natura che ho avuto tutte le volte che aveva abitratato la pelle che si accetta con i brandigini allora questo è un milagro e così facciamo gli vorrei la presenta la prima volta l'uomo che ho avuto attenuando l'uomo 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 impletivo l'uomo la quatermale è un cliente che lo voglio sia, quindi ho potuto utilizzare per la quattro nuova elementi, se non c'è di poterlo utilizzare da un altro, comunque è veramente grande perché sono 100 libri di prodotto, come tutto, 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 perché sono 100 libri di prodotto e sono perfetti, sono i tanti, costate, non fate cosa dirlo, non è tanto, come se non è normale costa un po' 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 di due, 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 l'alimento di soltelli che da solo un po' tutto oggi solo molto molto comune allora ti rio qui non vediamo sottobringosca qui legge qui ci松明ano quindi ok buono 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 bu vorremmo fare un piccolo caldo 10 3 quindi 10 9 8 7 8 9 10 3 2 1 0 Buonanotte 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 Babici Un bacione Un bacione Un bacione Un bacione